Un fine settimana bello intenso dentro la maggioranza a partire dalla discussione sulla manovra. Ma il punto è la manovra o è la tenuta di questa maggioranza? Sono tutte e due le cose. Certamente quello che colpisce anche dal servizio del collega di prima è che la battaglia degli emendamenti è dentro la maggioranza. Eh già. Cioè l'opposizione può vivere tranquillamente di rendita perché sta facendo tutto questa maggioranza e credo questa sia la maggiore debolezza e anche la maggiore incognita che si allunga su questo governo. Se non si mettono in testa e sarà difficile che devono costruire qualcosa in armonia o comunque in accordo, diplomatizzare, secondo me questo è un governo che rischia molto. Anche perché nel frattempo arriva una notizia. Alessio con cosa ha chiuso il telegiornale della sette, dell'ora di pranzo? Con una notizia francamente mette i brividi. Con la notizia francamente mette i brividi.